ciao sono jessica lavoro da ottobre 2021 presso la manutenzione il verde della cooperativa castello sono arrivata proprio alla fine dell'anno di crisi diciamo dovuto alla pandemia quest'anno però non ha restato il nostro lavoro e neanche la nostra moglie di migliorarci e di continuare abbiamo una squadra di professionisti giovani e con tanta voglia di crescere sempre di più siamo specializzati soprattutto nelle intricline vogliamo continuare a creare la bellezza con il nostro verde